buongiorno e bentornati sul mio canale dopo un po di tempo siamo tornati con i nostri video in italiano sulla germania e benvenuti a tutti i nuovi iscritti perché dall'ultima volta che l'ho detto ci sono circa 100 nuovi iscritti quindi grazie di essere su questo canale e oggi vedremo insieme come preparare un vorstellungsgespräch quindi come mi presento a un colloquio di lavoro con un tedesco quindi è importante appunto sapersi presentare quindi sich vorstellen cerchiamo di fare una cosa standard che vada bene diciamo come base partiamo con la domanda chiave e chiaramente è piccola precisazione questa frase è formulata dandovi del lei può essere che dei recruiter vi dicono va bene se ci diamo del tu quindi diventa ma facciamo questo colloquio come se ci dessimo del lei che di solito è la struttura un po più standard a questa domanda rispondiamo belli sicuri posizione non rispondete così con la voce bassa belli convinti quindi io per esempio potrei dire io sono Silvia, io sono 31 anni, io sono come aus Mailand oppure potrei dire anche… e poi potrei parlare dei miei hobbys tante persone lo fanno potrei dire quindi potreste prepararvi una piccola lista con 3-4 cose standard che voi andate a dire a questa introduzione quindi il vostro nome se volete l'età tre cose sulla vostra famiglia la vostra provenienza e cosa vi piace fare 5 punti, zack, diretti domanda in cui a volte ci si incastra warum sollten wir sie einstellen? voi immaginate ci sono 20 candidati e dovete avere in mente una risposta perché dovrebbero assumere proprio me e voi potreste rispondere weil ich viel erfahrung habe in XY oppure potreste dire perché lavoro volentieri weil ich gerne arbeite come altre frasi che potreste già prepararvi prima altra domanda che arriva sempre warum haben sie sich bei uns beworben e qui dovete essere preparati cioè voi dovete aver cercato delle informazioni vi do un consiglio siate sinceri non inventatevi cose da romanzo perché si capisce voi potete dire due o tre punti che vi sono piaciuti dell'azienda per esempio potreste dire weil es ein junges Unternehmen ist weil ich das Gefühl habe dass wir uns gut verstehen würden und weil es mir gefallen hat dass XY auf eurer Website und das widerspiegelt genau meine Werte poi sul punto del perché di siete candidatili è molto importante essere transparenti come vi dicevo quindi se voi sapete già per esempio che questa azienda paga bene dite weil ich besser verdienen möchte weil ich einen job brauche può essere anche vero perché tutti hanno bisogno di un lavoro weil mir die Stelle sehr gut gefallen hat perché questa posizione mi interessa altra domanda su cui essere trasparente warum wollen sie wechseln quindi perché cambia azienda per esempio nel mio caso dove ero prima io ho detto weil ich einen unbefristeten Vertrag gerne hätte weil ich wachsen möchte mich entwickeln möchte und wo ich gearbeitet habe war das eben nicht möglich weil ich gerne in einem internationalen Umfeld arbeiten möchte altra domanda che 100% arriva è wann könnten sie bei uns anfangen quindi se fosse due settimane dite in zwei wochen un mese in einem monat tre mesi in tre monaten oppure se siete disoccupati e volete iniziare adesso ich kann sofort anfangen altra domanda per sapere qualche cosa in più su di voi che viene fatta in due modi una è was sind ihre sterken e l'altro è können sie sich in tre wörter beschreiben e dovreste avere in mente due o tre aggettivi che pam arrivino subito al vostro interlocutore e che gli facciano capire chi ha di fronte per esempio a me piace usare zuverlässig zielstrebig und belastbar in qualche modo vanno a descrivermi abbastanza bene dall'altra parte vi potrebbero anche chiedere non sempre ma può essere und was sind ihre schwechen quindi quali sono i vostri punti deboli io su questo ho sempre un po' il momento di eh perché non ci vengono mai in mente i nostri punti deboli no per esempio io trovo che sono un po' fingerly e una cosa che viene di conseguenza è l'essere selbstkritisch quindi criticare anche molto se stesso però tante volte dicono sì però questo non è proprio un difetto quindi magari ecco nel vostro caso cercate dei difetti migliori ultima domanda come la ciliegina sulla torta was ist ihre gehalt vorstellung quindi cosa vuoi guadagnare e questo l'avevo già detto in un video i tedeschi normalmente non mettono lo stipendio che vi andranno a dare nella descrizione del lavoro è una cosa che andate a scoprire al colloquio potrebbe anche essere che siete voi a chiedere questa cosa al recruiter perché a seconda poi magari di come sapete la lingua può essere che il recruiter dopo avervi chiesto di presentarvi vi chieda e adesso hai delle domande da farmi quindi dovreste avere voi queste domande magari in mente di cosa vado a guadagnare quante vacanze date all'anno eccetera ma magari su questo facciamo un altro video le domande da fare al recruiter se vi interessa ditemelo sotto nei commenti comunque andate a dire cosa vorreste guadagnare non sparate cifre esagerate o cifre troppo basse io vi consiglio di andare nel gehalsrechnam vi metto sotto un link di una pagina che è affidabile inserite la città il lavoro che andrete a fare e quindi vi esce una specie di fascia centrale da mettiamo 2000 a 4000 euro e io quindi vi consiglierei di chiedere il mezzo quindi 3000 perché poi a seconda della vostra insomma esperienza magari vi danno di più o vi danno di meno però se voi chiedete il durchschnitt quindi la media di quello che si guadagna in quella città con quel lavoro siete già a un buon punto poi negli ultimi anni è cambiato non si va a chiedere lo stipendio mensile ma si parla di stipendio lordo annuo per esempio dite 45.000 euro lordi annui 45.000 euro brutto proiett a questo punto ragazzi per un colloquio in tedesco sarete preparatissimi queste sono veramente le domande più standard che molto spesso mi sono state fatte ho fatto decine 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 di colloqui credetemi chi mi conosce può confermare anche perché insomma sul mercato del lavoro c'è stato tanto movimento verso maggio giugno quindi tanti recruiter contattavano semplicemente via linkedin e ti proponevano colloqui quindi chiaramente vai a sentire se una cosa ti interessa già dalla descrizione dici io voglio sentire che cosa mi offrono e questa è anche una cosa importante quando voi vi state preparando per dei colloqui investite un pochino di tempo prima perché farete magari una figura migliore al colloquio stesso e non è detto appunto che tutte queste domande vengano fatte può essere che vi diano del tu che vi diano del lei però insomma abbiate sempre delle informazioni pronte in testa su quell'azienda in cui vi andate a proporre se avete l'intervista via video per esempio potete farvi anche due appunti e ve li mettete lì così se siete in tensione sapete dove andare a guardare spero quindi che questo video vi sia piaciuto se questo è il caso come sempre pollici in su e noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao